No, 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 guardi, no, non si può via parcheggiare qui nel Camposanto, no, non si può via. Sbidicuda, supercazzola prematurata. Eh? Non dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, e le son là, guardi, a destra, là. Ma qui non si può parcheggiare. No, volevo dire, è occhiello di privilegio come se fosse al tani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. Osetta. Intanto trinica con fraternità pulitina, eh, grazie. Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, Sosta Selvaggia, ormai è diventato un classico in questa città. Qui siamo in piano centro, Guido Monaco, vedete, anche per svoltare a destra, da via Marconi diventa difficile. E oggi è andata veramente bene, perché sono pochi, non sono numerosi i motorini, ma vedete, sono parcheggiati nella curva, ma addirittura spesso si mettono nelle strisce pedonali e anche lungo il marciapiede, come in questo caso. Pensate, sono più di quattro giorni che quella bicicletta è legata a quell'albero e ovviamente hanno portato via la rota per il proprietario, è stato, perché ha paura che la bicicletta, di non ritrovare più la bicicletta. Bene, ora noi abbiamo fatto tanti servizi sulla Sosta Selvaggia, in particolare all'ospedale, e dal primo di agosto scattano, nella zona San Donato, scattano tutti i rivieti. Attenzione, non si potrà più parcheggiare perché si prenderà la multa. In effetti ci sono delle auto di servizio, della Croce Bianca, della Misericordia, al trasporto dei disabili. Quindi diventava tutto difficile anche per gli operatori sanitari rendere più fruibile il servizio, soprattutto alle persone disabili che hanno problemi di mobilità. Bene, la guida in città va bene, la frenata a scalare va bene. Allora verifichiamo se è in grado di parcheggiare. Accostila? Sì. E così la polizia municipale dal primo di agosto non perdonerà più nulla, anche perché c'è un parcheggio comodissimo, si paga un euro per tutto il giorno e quindi bisogna utilizzarlo. Bene, noi a questo punto vi salutiamo. No, 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 guardi, no, non si può mi parcheggiare in Camposanto, no, non si può. Sbilicuda, supercazzola prematurata. Eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, e le sono là, guardi, a destra, là. No, no. No, volevo dire, è occhiello di privilegio come se fosse intendi per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. Ossetta. Intanto trinila con fraternità pulitina, eh. Ah, una pulitina. Grazie.